Buongiorno a tutti, Gesù e Maria, state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare. Io vi benedica e la Santa Vergine che protegga. Laudentur Iesus et Maria. Carissimi amici siamo alla trentunesima puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo romano del concilio di Trento. Ricorderete che stiamo analizzando insieme il focale fondamentale sacramento del battesimo. Siamo arrivati già a buon punto ma ancora ci sono delle cose ulteriori da scandagliare ed analizzare guidati dal testo. Ecco siccome forse non riusciremo a finire questa sera ci vorrà forse un'altra puntata però mentre al massimo due puntate ancora vorrei mettere punto a questo pure importantissimo sacramento. Evito di fare troppo esorbitanti e lunghi preamboli. avvicino un po' il microfono e cominciamo subito con la lettura. Effetti del battesimo e il carattere. Questo è il paragrafo 186. Inoltre il battesimo imprime nell'anima un carattere che non potrà più essere cancellato. Non ci diffonderemo molto in proposito. Basterà applicare quanto sopra è stato già detto trattando dei sacramenti in genere. Però a evitare ogni equivoco i pastori ricorderanno spesso e diligentemente fedeli che appunto in base alla natura e alla forza del carattere la chiesa ha definito che il sacramento del battesimo non può mai essere ripetuto. L'aveva già insegnato l'apostolo dicendo un solo signore, una sola fede, un solo battesimo. Letteral di Efesini capitolo 4 versetto 5. Scrivendo ai romani li esorta a far sì che morti col battesimo in Cristo non perdano la vita da lui ricevuta. Morendo per il peccato Cristo è morto una volta sola. Romani 6.10 In altre parole, come egli non può morire una seconda volta, neppure a noi è dato morire di nuovo col battesimo. Per questo la Santa Chiesa proclama nettamente di credere nella unicità del battesimo che del resto risponde alla logica e alla realtà. Poiché il battesimo è una rinascita spirituale. Ora, come per virtù naturale siamo generati e nasciamo una sola volta cosicché secondo la frase incisiva di Sant'Agostino non c'è dato di ritornare nell'utero materno e così unica deve essere pure la rinascita spirituale. Quindi il battesimo non deve essere mai ripetuto. Guardate che io vado sempre in chiamiamolo brodo di giugiole quando ascolto queste cose perché la chiarezza veramente dottrinale è sempre qualcosa di importante. Guardate cosa dice il testo. Capiamo bene che cos'è la fede divina e cattolica. Per questo la Santa Chiesa proclama nettamente di credere nella unicità del battesimo. Attenzione. Che del resto risponde ricordate? Alla logica e alla realtà. Cioè, il sacramento del battesimo è unico perché ti lascia il carattere col battesimo si diventa semplicemente che il carattere del battesimo è essere cristiano. Il carattere è un segno indelebile nell'anima. È come un tatuaggio spirituale. Ma non ci stanno laser che lo possono cancellare. Non ci sono. Unico. È un segno. Che non si cancella più. Però perché non si può ripetere? Facilissimo. Io, tu, lei magari. Siamo nati una volta sola. Siamo stati concepiti una volta sola. E nasciamo una volta sola. È impossibile che io torni nel grembo di mia mamma che peraltro non è più neanche viva. Ma se anche fosse viva, io non posso tornare nel grembo di mia mamma e nascere un'altra volta. Ricordate il discorso che Gesù fa con Nicodemo? Come posso conoscere questi? Se non rinascere dall'acqua e dallo spirito, che cos'è sta roba? È una rinascita. Cioè, la mia vita naturale è stata concepita come è stata concepita e sono nato dal grembo di mia madre. C'è una rinascita spirituale che comporta una unione, meglio, una incorporazione sotto certi punti di vista al mistero della morte e risurrezione di Cristo. Si muore al peccato e si rinasce alla vita della grazia. È un'operazione che può avvenire una volta sola perché è una rinascita spirituale. Come si nasce una volta sola? Si rinasce una volta sola. Ecco perché logica e realtà. Se uno si riflette su quel focale discorso di Gesù a Nicodemo, se uno non rinasce da acco e da spirito non può entrare nel regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio. C'è la nascita, c'è la rinascita. Quante sono le nascite? Uno. È possibile rinascita una seconda volta? No. Quindi, quante sono le rinascite? Uno. È possibile rinascita una seconda volta? No. Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati. Logico, no? È importantissimo imparare ad usare bene la logica dentro la fede. Va bene. Questo può bastare per questo primo punto. Andiamo a 187. Il battesimo sotto condizione. Questo è un aspetto molto delicato. Non si consideri però come una ripetizione del battesimo l'uso ecclesiastico di battezzare di nuovo quando vi sia il sospetto che chi si presenta non sia stato già battezzato. Usando la formula Se sei stato battezzato non ti ribattezzo ma se non sei stato ancora battezzato ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Non si tratta qui di un battesimo ripetuto ma di un'amministrazione sacramentale fatta con le giuste cautene. Finisco di leggere e poi commentiamo un po'. In proposito, i pastori bateranno ad alcuni particolari sui quali si manca pressoché ogni giorno con gravissima irriverenza al sacramento. Vi sono ministri che credono di non commettere nulla di mano e battezzando indifferentemente tutti con quella clausola. Ma quando viene loro presentato un fanciullo non si curano affatto di sapere se già sia stato battezzato e senz'altro amministrano il battesimo. C'è di peggio. Pur sapendo che il sacramento è già stato conferito in casa non esitano a rinnovare il battesimo condizionato in chiesa e con solenne cerimonie. Non possono farlo senza incorrere in un sacrilegio e in quella indegnità che i teologi chiamano irregolarità. In base a un decreto di Papa Alessandro III quella formula battesimale è consentita solo quando fatte le dovute inchieste rimane qualche dubbio che sia stato ricevuto il battesimo valido altrimenti non è mai deciso di ribattezzare neppure condizionatamente. Allora qui chiaramente si tratta magari ci fossero ancora queste prassi voi non lo sapete ma se avete il rituale romano del 52 per esempio l'ultima edizione che c'è che adesso è stata proibita troverete che sia per il battesimo dei bambini che per il battesimo degli adulti ci sono dei rituali volti a completare e diciamo così il battesimo perché lo sto spiegando perché è la fattispecie a cui si fa riferimento spesso i bambini magari si pensava che fossero in pericolo di vita venivano battezzati in casa cioè al volo chiunque prende un po' d'acqua io ti battezzo in nome del Padre e del Filo e dello Spirito Santo quel battesimo è valido al 100% se gli metterà acqua in testa con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa mi pare che ne abbiamo già parlato che il ministro straordinario del battesimo è chiunque ora però nel sacramento specialmente nella forma antica molto più che nella nuova c'erano tutta quanto una serie di riti accessoriche però non sono qui squilie l'unzione con l'olio dei catecumeni l'unzione del crisma gli esorcismi che ce ne erano due la rinuncia a Satana fatta dai padrini o per un adulto fatto da lui in persona la professione di fede il rito dell'effatà tutte quante le imposizioni di mani che c'erano un tempo il sale esorcizzato e quindi se c'era stato questo battesimo diciamo così di urgenza sia per un bambino che per un adulto tu poi andavi in chiesa e però non facevi un altro battesimo cioè quindi fai il rito e poi lo battezzi sotto condizione no fai semplicemente i riti integrativi del battesimo che è già stato dato il battesimo sotto condizione si dà quando non si è certi che la persona sia stata validamente battizzata facciamo un po' di esempi reali allora per esempio se una persona è battezzata all'interno di una confessione non cattolica ci sono alcuni battesimi che è dubbio che siano veri i battesimi io non sono esperto in queste cose ma anni addietro che mi trovai a affrontare questa situazione mi fu detto che c'è un elenco ufficiale bisogna contattare la santa sede con le confessioni cattoliche che amministrano non cattoliche che amministrano validamente il battesimo per cui la persona non deve essere ribattezzata nemmeno sotto condizione e invece delle confessioni non cattoliche che battezzano validamente scusate non validamente oppure altre in cui ne è dubbio se uno è certo che il battesimo non è valido lo battezza e basta se uno è non è sicuro che quel battesimo sia valido lo battezza sotto condizione usando questa formula se sei stato battezzato non ti ribattezzo se non sei stato battezzato ti batteggio il nome del Padre del Spirito e lo Spirito Santo ok? quindi questo è importantissimo oppure quando si dubita che il battesimo sia stato amministrato nella forma giusto nella forma giusta ho già detto è un problema pastorale che è uscito negli anni addietro che per esempio quando si fanno i battesimi specialmente bambini per immersione cosa che adesso è stata di nuovo consentita dalla disciplina bisogna fare attenzione che la testa deve essere bagnata io l'ho già raccontato che è un fatto storico pubblicamente accaduto cioè durante una riunione del clero quando c'era come vescovo Petrocchi qui arrivò una comunicazione dalla Santa Sede dicendo attenzione raccomandate i sacerdoti che fanno questi battesimi che la testa deve trovare il modo di bagnarla cioè se tu lo immergi fai così e lo immergi fino alle ascelle e non gli mandi l'acqua sulla testa il battesimo non è valido d'accordo? per cui in presenza di una cosa del genere almeno sotto condizione la persona deve essere ribattezzata non è un gioco non è uno scherzo perché se il sacramento c'è c'è se non c'è non c'è non è che se uno sta in buona fede c'è lo stesso se uno sta in buona fede non c'è quindi lo ribattezza sotto condizione ok oppure per esempio ci sono dei casi in cui non si trova cioè non si trova un registro del battesimo dove il battesimo è stato registrato per esempio e come si fa? si può in quel caso procedere al battesimo sotto condizione ok questo è un sacramento importante non è come se niente fosse però non bisogna abusare di questa cosa perché quando il battesimo c'è c'è e basta adesso nella disciplina nuova queste cose sono praticamente inesistenti perché si è persa la percezione dell'importanza dell'urgenza di battezzare sono proibili praticamente quasi da per tutti i battesimi in ospedale quindi uno viene battezzato in parrocchia peraltro ad età 7, 8, 10 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni adesso se ne vedono di tutti i colori quando battezi un bambino di 4-5 anni l'assicuro mi è successo insomma è impegnativo perché non è che sta buono come un bambino piccolo come si muove si agita te scaccia te scaccia la mano con la sua non si fa fare unzioni perché gli danno fastidio quindi vabbè ultimo effetto del battesimo il battesimo bellissimo paragrafo 188 apre le porte del cielo infine oltre agli altri vantaggi conseguiti col battesimo viene uno per ultimo che sembra riassumerli tutti per esso a ciascuno di noi viene riaperto l'ingresso nel paradiso già serrato dal peccato chi non rinasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio detto Gesù tutto quello che la virtù del battesimo opera in noi può desumersi agevolmente da quanto accadde secondo il racconto evangelico in occasione del battesimo del salvatore si aprirono allora i cieli e apparve in forma di colomba lo spirito santo discendendo su Gesù Cristo nostro signore qui il catechismo da un'interpretazione autentica di questo episodio evangelico apriamo bene le orecchie il miracolo significava che i battezzati sono elargiti divini carismi e sono spalancate le porte dei cieli non perché vi entrino senz'altro nell'ora del battesimo ma perché al momento opportuno conseguono la gloria e immuni da quelle miserie che sono incompatibili con la beatitudine raggiungano l'immortalità al posto della mortalità questi dunque sono i frutti del battesimo se guardiamo il sacramento in se stesso non si può dubitare che vengano da tutti ugualmente percepiti se poi si guardano le disposizioni con le quali singoli individui si accostano a riceverli bisogna pur confessare che alcuni li ricevono in maggiore altri in minore abbondanza attenzione attenzione qui si parla dei frutti del sacramento questo vale per tutti i sacramenti dovremmo aver già affrontato la tematica molto importante chi vuole approfondirla in maniera stabile per favore si può leggere il mio libretto i sette sacramenti gratuitamente scaricabile su tutti i distors per chi non vuole acquistare da you can print o negli distors la versione cartacea ma dentro la testa di un cattolico ci deve essere chiara specialmente in questi tempi di cretinate dilaganti la distinzione che c'è tra validità liceità e fruttuosità di un sacramento perché la validità di un sacramento c'è praticamente sempre a meno che non ci siano dei vizi sostanziali e formali che ne inficino l'essenza questo si ha soltanto quando manca la materia manca la forma o manca l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa esempi il battesimo si fa con l'acqua l'abbiamo già visto dicendo la formula io ti battezzo il nome del padre del figlio e avendo la generica intenzione non specifica di fare ciò che questo sacramento fa la chiesa basta messa prendi pane azimo prendi vino di vite un prete validamente ordinato nella chiesa cattolica che pronuncia le parole della consagrazione non le deve non le può cambiare devono essere quelle dentro la messa fine ok continuo con gli altri sacramenti è tutto così ora un sacramento è illecito quando chi lo celebra o chi lo riceve non sta in grazia tutto qui o lo amministra o lo riceve in maniera se ne sentono da tutti i colori oggi in giro d'accordo mi è stato raccontato recentemente che in una parrocchia è stato visto sentite un bambino a fare la comunione la prende in mano prima di mangiare l'occhia la lecca tipo lecca lecca mi è stato riferito allora col bambino sicuramente o voglio sicuramente non lo so adesso non facciamo il giustificazionismo ma è chiaro che la comunione si può dire che è sacrilega speriamo che si possa dire senza che succeda al finimondo però quello ha ricevuto la comunione il comunione che si accosta alla comunione è stato di peccato mortale la comunione è lecita ma non è che non riceve il corpo di Cristo lo riceve come? è consacrato solo che per lui anziché mangia e beve la sua condanna la fruttuosità di un sacramento allora se un sacerdote è stato già detto qui durante queste cose amministra il sacramento e la battesione in maniera non decorosa sciatta scellerata a volte diventano veramente delle delle mezze pagliacciate d'accordo? chiacchiere durante il sacramento battute io si stanno in giro queste cose qui applausi elevazione dei ragazzini sembra cioè allora il sacramento è barito il bambino è battezzato ma la fruttuosità di quella cerimonia non è eccellente perché Dio è stato offeso durante questa mezza pagliacciata la stessa cosa vale per una messa celebrata oltre i limiti del suo portabile che frutti darà fermare stando la validità e per chi partecipava stando in grazia anche la perfetta liceità capite? queste tre cose adesso mi fermo qui perché se no parliamo tutta la sera di questo devono essere chiare d'accordo? i famosi matrimoni le famose sacre rote la sacra rota non è un divorzio cattolico non è e non lo deve diventare un matrimonio è nullo quando si fa una verifica perché il matrimonio lo servono gli sposi e il matrimonio si fonda sul consenso di essi se il consenso è viziato il matrimonio è nullo è un sacramento che c'è una disciplina tutta sua ok quando è che è nullo se si escludono i beni essenziali del matrimonio uno non si può sposare e per esempio non c'ha voglia di consumarlo il matrimonio perché se non c'è voglia di consumare il matrimonio o ti metti d'accordo prima che fai il matrimonio bianco ma c'è d'accordo tutti e due oppure non puoi deciderlo da solo perché se non quell'altro se l'avessi saputo non ti avrebbe sposato quindi c'è un vizio del consenso oppure io non voglio avere figli io lo dici dopo che ti sei sposato comincio a usare contraccettivi a gogo il codice diceva scusi io voglio i figli io no ma come no e io non li voglio e perché non me l'hai detto prima e perché non mandava il matrimonio è nullo senza bisogno neanche di starci a pensare ok oppure un uomo ha un figlio con un'altra donna non lo dice alla futura moglie quella lo viene a sapere dopo il matrimonio tanto è vero che nelle domande che il parroco fa prima del matrimonio guarda che per caso è tenuto nascosto qualcosa al fidanzato della fidanzata che se lo venisse a sapere potrebbe turbare la gravità del matrimonio sono tutte quante domande che se uno risponde alla verità il matrimonio è valido che vertono sui punti fondamentali per cui se quella domanda non rispondi correttamente c'è un vizio in origine tanto è vero che quando le risposte sono sbagliate cioè non sono quelle che si dovrebbero dare la curia non darebbe il nulla osta per sposarti in chiesa perché saprebbe già che il matrimonio è sicuramente nulla per questo io dico sempre cioè se gli sposi sono stati sinceri a rispondere alle domande del cosiddetto processetto davanti a parro quel matrimonio è valido e per questo che in molte sentenze di nullità alla parte colpevole perché uno dei due ha mentito durante quell'interrogatorio gli viene poi imposto la proibizione di sposarsi di nuovo in chiesa oppure per sposarsi in chiesa un'altra volta c'è e vuole il consenso dell'ordinario ma questo non è un divorzio cattolico se uno se uno fa funzionare il cervello vabbè io ce lo lavoro in giurisprudenza quindi è un po' più facile queste cose qui perché io lo so la differenza che c'è da un contatto nulla annullabile o riscendibile o risolubile quindi mi riesce un pochino più facile ok capisco che per una persona comune può essere un pochino complicato ma è un problema di validità non un problema perché un matrimonio valido cioè non ci stanno sacre rote non ci stanno né sacre rote né sacri rote facciamo un po' di errore sacri sportelli o volanti non ci sta niente non ci sta non può scioglierlo nessuno il matrimonio è indissolubile purché sia valido però sia stato validamente celebrato e i ministri del matrimonio sono disposi non è il prete il prete si dice che assiste alle nozze cioè riceve a nome della chiesa il consenso matrimoniale davanti ai testimoni ok che ci sia un ministro della chiesa che ci siano i testimoni è un'altra condizione a validità ok però chi fa il matrimonio consensus facit matrimonio io non sono un canonista però alcune cose come l'esame di base di diritto canonico tutti i preti lo devono fare se non ci diventi prete quindi quel poco che mi ricordo ok e che so perché so faccio pure il parroco quindi devo fare le cause matrimoniali le cause come dire le pratiche matrimoniali non le cause matrimoniali quindi certe cose le devi fare per forza se non ho proprio il parroco bene e con questo chiudiamo questo discorso no le cerimone del battesimo 189 ricordiamo infine brevemente ma chiaramente quel che deve essere insegnato circa le preci i riti le cerimonie che accompagnano questo sacramento l'avvertimento dell'apostolo a proposito del dono delle lingue è completamente inutile parlare senza farsi intendere dai fedeli può essere opportunamente applicati alle riti e alla liturgia che sono il simbolo e il segno di quanto nel sacramento si opera se il popolo credente ignora la forza e l'efficacia di quei segni non sarà grande in verità l'utile delle cerimonie i pastori perciò curino assiduamente che i fedeli le comprendano rendendoli persuasi che esse per quanto non strettamente necessarie devono ad ogni modo essere tenuti in altissima stima e in grande onore ciò risulta dall'autorità di chi le istituì e precisamente dagli apostoli e dal fine che presiedette la loro istituzione così si ottenne infatti che il sacramento fosse amministrato con maggiore pietà e venerazione e che mettendo dinanzi agli occhi gli insegni doni che racchiude gli infiniti benefici del Signore colpissero più efficacemente l'anima dei fedeli affinché i pastori possano in questa spiegazione seguire un certo ordine i loro insegnamenti rimangano maggiormente impressi nella memoria dell'orogre e già sarà bene distribuire interclassi le cerimonie e le preci che la Chiesa usa nell'amministrazione battesimale la prima abbraccia quelle che si praticano prima di accortarsi del Sacrofonte la seconda quelle usate nel lato stesso del Battesimo la terza quelle che lo seguono qui adesso chiaramente c'è una rassegna di andremo un po' veloci del Battesimo così come amministrato in vetus sordo a quanto pare purtroppo questa cosa al momento è stata bloccata dopo che Benedetto XVI la liberalizzò nel 2007 perché liberalizzò per chi lo desiderava anche l'amministrazione del Sacrofonte in vetus sordo adesso è stata revocata questa facoltà e credo non sono molto esperto insomma a riguardo che non so se sono già state coinvolte o forse lo saranno purtroppo non sono molto aggiornato su questo anche i cosiddetti istituti ex ecclesia dei che quindi hanno come dire l'indulto diciamo così perpetuo per poter vivere la liturgia secondo l'usus antiquior come si dice tecnicamente in ogni caso prima durante e dopo quindi prima al fonte e dopo il battesimo prima del battesimo anzitutto occorre preparare l'acqua necessaria al sacramento perciò viene consagrato il fonte battesimale colando quello della mistica unzione non è lecito farlo in qualsiasi momento pensate che veniva consagrato il fonte battesimale tutte cose che adesso sono andate perdute ma secondo la consulità dei nostri padri bisogna attendere determinati giorni festivi giustamente ritenuti più santi e solenni Pasqua e Pentecoste nelle loro vigili si prepara l'acqua del santo battesimo ripeto stiamo leggendo queste cose per formazione diciamo così teoriche perché adesso queste non ci sono più nei medesimi giorni a meno che le circostanze non avessero imposto diversamente secondo l'uso dell'antica chiesa veniva amministrato il battesimo cioè Pasqua e Pentecoste oggi dati i rischi della vita normale la chiesa non ha conservato tale consuetudine ad ogni modo continua a rispettare col massimo o segui i giorni di Pasqua e di Pentecoste come destinati alla consacrazione dell'acqua battesimale e questo è rimasto anche nell'attuale liturgia c'era benedizione del fonte nella viglia pasquale e dell'acqua australe a questa consacrazione devono seguire altri liti sempre preliminari al battesimo portati o condotti alla soglia della chiesa coloro che devono essere presentati al battesimo se ne vieta loro decisamente l'ingresso sono infatti indegni di entrare nella casa di Dio prima di avere gettato via il gioco della più degradante schiavitù e di essersi consacrati totalmente al nostro Signore Gesù Cristo e al suo Santo Domino questo di amministrare i liti introduttori alla porta della chiesa è ancora rimasto anche nel nuovo sordo di amministrazione del sacramento allora il sacerdote chiede loro che cosa vogliono dalla chiesa avuta la congora risposta li istruisce subito intorno alla dottina della fede cristiana che devono professare nel battesimo questa si pratica con alcune domande di catechismo nessuno può ammettere in dubbio che questa regola si sia originata dal salvatore stesso perché comandò gli apostoli andate loro in tutto il mondo istruite leggenti battezzandolo nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo insegnando loro ad osservare tutto quanto io ho comandato da queste parole si arguisce che il battesimo non può essere amministrato prima che si siano spiegati almeno i capisaldi della nostra religione e poiché è essenziale che la catechesi risulti di una serie di domande se colui che viene istruito adulto risponderà di persona all'interrogazione se è un bambino vuole il rito che il padrino risponda e faccia solenne promessa in sua vece segue l'esorcismo tra virgolette è un vero esorcismo perché la formula praticata è proprio quella esorcistica quindi sono delle intimazioni dirette al demonio composto di parole preci sacre religiose destinato a cacciar via il demonio e ad abbatterne la potenza questo non perché un bambino per esempio sia ossesso ma perché attraverso il peccato originale che non è nulla c'è una sorta di misteriosa presenza azione adesso il termine cioè queste cose qui non è che è molto facile definirle con precisione non si tratta di una possessione diabolica ovviamente però quello non è una cosa da nulla nasce infettati col peccato originale padre pio lo chiamava essere schiavi di satana quindi se schiavo di satana devi esserne liberato e quindi c'è questo rito ovviamente che si premette al battesimo anzi ce ne sono due veramente perché un altro veniva fatto al fonte prima veniva fatto al fonte prima di amministrare il sacramento del battesimo due dica uno infine si svolgono tutte le altre cerimonie tutte mistiche ognuno delle quali ha qui un speciale significato si introduce così il sale nella bocca del battezzando anche questo gli esorcismi e il sale sono stati aboliti nel nuovo sordo ciò vuole indicare evidentemente che gli sarà arricchito della dottrina della fede e del dono della grazia affinché si liberi dalla putredine della colpa sapete che il sale impedisce la putrefazione degli alimenti quindi vedete la simbologia che viene espressa raccontando questo gesto e assaporando il gusto delle buone opere si derizzina il pascolo della sapienza divina il sale voi siete il sale della terra la sapienza il gusto delle buone opere il cibo insipido fa schifo non mi invitate mai a pranzo mi raccomando se non mettete il sale dentro gli alimenti e a cena fate pure le cose più semplici di questo mondo va bene pure aglio, olio e peperoncino burro e parmigiano però il sale è proprio una penitenza assoluta perdonatemi se ogni tanto faccio la battutina però questo fa capire uno dei valori del sale no? ecco il gusto delle buone opere assaporare il gusto delle buone opere sono inoltre segnati col signor della croce la fronte gli occhi il petto le spalle le orecchie così è simboleggiato di robustirsi dai sensi del battezzato compiuto mediante il battesimo perché gli possa ricevere Dio intendere rispettare i comandamenti oggi il design della croce è soltanto quello sulla fronte e quello sul petto fatto con l'unzione a due battesimali non ce ne sono altri infine gli vengono umettate di saliva le narici e le orecchie e subito dopo è introdotto nel fronte battesimale come avvenne al cieco del Vangelo il rito dell'effatà che si fa leggermente inumidendo di saliva immaginate oggi no? le narici e le orecchie del battezzante immaginate oggi specialmente in certi momenti che abbiamo recentemente attraversato il delirio sarebbe successo no? una roba del genere vabbè oggi semplicemente si tocca orecchio e e e la bocca ma il rito viene fatto dopo il battesimo è un rito esplicativo non introduttorio nel nuovo sordo del battesimo come avvenne al cieco del Vangelo a cui il Signore comandò di lavarsi nell'acqua di cielo e gli occhi imbrattati di fango per acquistare la vista così ci viene insinuato che la sacra bussione possiede la capacità sentite di conferire all'intelligenza la virtù visiva necessaria per cogliere le verità celesti guarda che bello la virtù visiva cioè tu non vedi con gli occhi del corpo ma vedi con l'intelligenza le verità celesti le vedi le conosci e per quanto possibile sempre in parte ma è del tutto le comprendi poi al fonte battesimale dopo di ciò si va al fonte battesimale per compiere altre cerimonie e altri diritti da cui è possibile arguire e compendere la legione cristiana il sesso dote interroga il battezzando rinunzi a satana le sue opere le sue seduzioni e il battezzando o il padrino per lui risponde variabilmente rinunzio così colui che sta per approvarsi al servizio di Cristo promette in primo luogo consentimento di viva pietà di abbandonare il diavolo e il mondo di detestarli per sempre e continuamente quali nemici implacabili il diavolo e il mondo nemico implacabile con il mondo non si scende a compromessi non si diventa amici se uno ama il mondo scrive San Giovanni l'amore di Dio non è in lui anche perché il mondo ci odia se il mondo vi odia dice Gesù nel Vangelo sappiate che prima di voi ha odiato me ma voi non siete del mondo siete nel mondo io vi ho scelti dal mondo e vi ho inviati nel mondo per portare frutto però i cristiani si distinguono nel mondo noi non possiamo diventare mondani e non solo i preti che dovrebbero portare l'abito sacro ma anche i laici e non solo per l'abito ma anche per l'abito perché una cristiana non può andare vestita come le mondane questo se lo metta bene in testa e anche un cristiano mutatis mutandi c'è sempre una dignità per gli uomini è un pochino più complicato ma ci diflettano gli uomini cristiani alla dignità e alla distinzione non ci si può uniformare pedissequamente acriticamente alle mode del mondo la madonna fatima disse alla piccola giacinta non dovete seguire le mode la chiesa non ha mode l'unica moda è quella della modestia del decoro della sana e santa eleganza che non vuol dire ricchezza o sfoggio o griffe assolutamente uno può vestire poverissimamente ma essere un gioiellino di bellezza e di splendore di modestia di edificazione e di santità chiusa parentesi diavolo e mondo detestati e considerati quali nemici implacabili implacabili allora il sacerdote collocato davanti al fonte continua l'interrogatorio credi in Dio Padre Onipotente credo 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 ok in queste due dichiarazioni si riassumono in verità quindi rinuncio e credo la forza e la disciplina della legge cristiana è ormai il momento di amministrare il battesimo il sacerdote domanda al battezzano se voglia essere battezzato e ricevuta una risposta affermativa direttamente dal padrino direttamente o dal padrino immediatamente lo bagna con acqua salutare nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo come l'uomo infatti fu giustamente condannato dopo aver volontariamente obbedito al serpente così il Signore vuole solamente dei volontari nel numero dei suoi fedeli attenzione perché spontaneamente docile e divini precetti raggiungono l'eterna salvezza volontari il valore della volontà tutto quello che Dio fa con noi dipende dalla volontà chiaro che il bambino non può esprimere la volontà ma la esprimano i genitori per lui e poi dovrà ratificarla crescendo perché il battesimo non funzionerà a magia cioè funzionerà nel senso che il peccato originale è rimesso le virtù sono infuse e la grazia è comunicata che fine faranno quelle virtù? punto interrogativo che fine farà quella grazia? guardate che arrivato a 70 anni per esempio in Italia sono ancora quasi tutti battezzati però alcuni sono diventati criminali altri sono diventati buoni cristiani altri fedeli doc altri camminano verso la santità ma il battesimo era uguale per tutti non è che uno è stato battezzato uno è un po' più battezzato e l'altro un po' più battezzato quello è un po' più grazia e l'altro di meno no no il punto di partenza è uguale per tutti bene riusciamo a finire magari sforiamo un po' con i tempi questo sarebbe il caso di chiudere ma abbiamo gli ultimi due paragrafetti e finiamo il battesimo anche perché qui c'è dopo il battesimo quindi per forza bisogna chiudere questo discorso altrimenti diventa complicato riprenderlo quindi prima poi al fonte durante e dopo dopo il battesimo compiuto rito battesimale numero 192 il sacerdote unge col crisma il vertice del capo del battezzato qui il vertice del capo non la fronte quindi nella zona immediatamente antistante la fronte qui si deve comprendere che da quel momento è congiunto con Cristo Cristo come un membro alla testa che è nestato al suo corpo e che il nome di cristiano gli deriva da Cristo come quello di Cristo deriva da crisma il significato del crisma poi risulta come a testa Sant'Ambrogio scusate dalle previere stesse che in questo momento il sacerdote pronuncia quindi il sacerdote riveste il battezzato di una candida veste dicendo riceve la veste bianca che porterà immacolata immacolata al tribolale di nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna però ai piccoli che non usano ancora veste è dato con queste parole un fazzoletto bianco oggi ci sono le vestine battesimali secondo i santi padri eso sta a indicare la gloria della risurrezione cui sono introdotti di diritto i battezzati e anche il nitido fulgore di cui si radia l'anima del battezzato purificata dalle macchie della colpa e l'innocenza che il battezzato deve difendere per tutto il corso della vita voi sapete che ci sono dei santi che hanno conservato l'innocenza battesimale dobbiamo saperle queste cose qui ci sono uomini e donne non pochi che peccati mortali non li hanno fatti lo sapete questo qui perché il battesimo ci abilita a non commetterli certo ci vogliono tutta una serie di condizioni cioè i santi che per esempio non hanno commesso peccati mortali una per tutte una santa gemma è chiaro che non sono cresciuti in ambienti corrotti perché se credo che si cresci in ambienti corrotte è quasi impossibile che non commetterà un peccato mortale e dico quasi perché potremmo anche dire è impossibile ecco perché è così importante far crescere bene i figli che le famiglie siano sante perché il battesimo ti dà la grazia però è chiaro che quella grazia la devi custodire devi trovargli un habitat ideale per farla crescere se no c'era un miracolo l'innocenza che il battezzato deve difendere per tutto il corso della vita è possibile ancora arrivare al matrimono vergini altro che se lo vuoi c'è altro che puri anche puri significa non soltanto che non hai perso la verginità ma che non è neanche al di sotto di quella soglia ha violato la purezza è possibile molto difficile forse ma è possibile sì in teoria è possibile è possibile e fino a qualche tempo fa anime che giungevano così al matrimonio c'erano e come e io le ho conosciute io le ho conosciute persone molto anziane nelle parrocchie dove sono state ci fu una signora che una volta mi raccontò la racconto perché fa ride ci sai i nomi chiaramente facciamo che il marito si chiamava Francesco sai una volta uscivamo insieme e Francesco si avvicina e mi viene a dire ti vorrei dare un bacio che hai detto mi vuoi dare un bacio e che mai hai trovato per strada se vuoi dare un bacio quella è la porta d'accordo se lo vuoi adesso se vuoi aspettare il giorno del matrimonio rimani dove stai questa persona è un alfabeta perché esiste ancora qualcuno di queste non sa leggere e scrivere però io direi a questa persona la metto in ginocchio capito? perché saper leggere e scrivere bisogna averci la laurea bisogna averci la laurea in scienze religiose intese in questo senso cioè quindi in fede e morale vissute perché proprio impregnate fin da quando sei piccolo e che non te la tolte mai nessuno mi metto in ginocchio di tenenza a questa quindi non è vero che non esistono queste cose non si senta colpevole chi non le ha osservate perché poi il nostro signore saprà giudicare le persone le situazioni eccetera però non cominciamo a dire stupidaggini perché la potenza del sacramento del battesimo questa grazia ce la dà quindi se viene ripeto custodita in habitat ideali e poi da una volontà buona alimentata ovviamente poi con i sacramenti dell'iniziazione cristiana che il bambino quanto prima riceverà è possibile non è facile ma è possibile poi gli metti in mano un cielo acceso per indicare che la fede ardente di carità ricevuta nel battesimo deve essere alimentata e accresciuta con lo zelo per le buone opere altrimenti si spegnerà infine imposto un nome a un battezzato essa sarà sempre presa da una persona che l'insegna e virtù e la profonda religiosità hanno introdotto in un lavoro dei santi oggi questo molti molti ragazzini hanno battezzato con i nomi strambi specialmente che non esiste un santo è difficile dirgli almeno o aggiungine un altro perché i nomi di battesimo possono aggiungere almeno così la somiglianza del nome inciterà facilmente all'emunazione della virtù e della santità studiando di imitare il santo di cui porta il nome lo conosciamo noi il santo di cui portiamo il nome per esempio il fedelo lo pregherà e spererà di averlo tutore della propria salute corporale e spirituale sono perciò degni di biasimo di biasimo coloro che vanno a cercare per imporle ai bambini nomi di pagani anzi di personaggi che furono tra i più scellerati bella stima mostrano costoro della pietà cristiana compiacendosi tanto nella memoria di individui e tempi e adoperandosi a tutta forza perché all'orecchio dei fedeli risuonano da ogni parte nomi profani vedete che grandi considerazioni per quanto mi riguarda attualissime 193 riassunto è l'ultimo e poi chiudiamo quando i pastori avranno spiegato tutto questo potranno sentirsi tranquilli di non aver tralasciato nulla di ciò che è necessario per una conveniente conoscenza del sacramento del battesimo ho spiegato infatti il significato del nome fu esposto alla natura della sostanza del battesimo ne furono indicate le parti è stato detto chi lo istituì quali sono i suoi ministri necessari quali padrini devono essere scelti per corroborare la debolezza del battezzato è stata mostrata chi deve essere amministrati del battesimo e in qual modo disposto l'animo di chi lo riceve sono state segnalate la virtù e l'efficacia infine sono state sufficientemente descritte le cerimonie liturgiche che devono accompagnarla i pastori non dimenticheranno che tutti questi insegnamenti costituiscono il pascolo permanente delle anime di fedele affinché mantengano fede alle sante promesse alle sante e pie promesse del battesimo menando una vita in armonia con la veneranda professione del nome cristiano ecco non occorrono molti commenti a queste ultime parole semplicemente siamo arrivati al termine di questo augusto sacramento meno male che non ci siamo allungati troppo per cui metterei punto ci sentiamo la prossima volta e che Dio vi benedica e la santa vergine vi protegga grazie